buongiorno ben trovati hr tv week nuovo appuntamento con una tavola rotonda qui sulle fonti tv dedicata alle hr alle human resource in particolare oggi parliamo di formazione formazione a misura di persona di cosa parliamo quando parliamo ripetizione voluta di formazione misura di persona beh premessa forse banale ma bisogna partire da qualche parte è evidente che nell'ultimo anno la rivoluzione digitale non abbia risparmiato nessuno nemmeno il mondo della formazione che ha dovuto rivedere drasticamente modalità e tempi di erogazione dei propri servizi in un contesto però di graduale rientro dell'emergenza diventa scusate è necessario per le aziende fare tesoro di quelle strategie formative che si sono dimostrate capaci di rispondere efficacemente alle nuove sfide integrandosi con successo nel tessuto aziendale nel corso della prossima ora allora andremo quindi a esplorare in che modo è cambiata l'attività di formazione delle persone quali sono le cosiddette lesson learned le lezioni imparate apprese nell'ultimo anno e individueremo le possibili strategie per favorire un'attività di formazione inclusiva che sia in grado di bilanciare le specificità personali di tutti gli abitanti della popolazione aziendale chiamiamola così con le evoluzioni del mercato e gli obiettivi dell'azienda vi presento i nostri ospiti perché ovviamente non sarò qui da solo e allora grazie per essere qui con noi a francesca leoni internal comms and people and engagement senior manager cerved gruppo buongiorno francesca buongiorno li vedete già nel nostro grande schermo un saluto anche a filippo romanini learning and development director di barilla filippo bentrovato buongiorno buongiorno a tutti e grazie per la disponibilità anche a claudio cattaneo digital training advisor di speaks claudio buongiorno a te buongiorno buongiorno giacomo buongiorno a filippo e francesca e allora siamo pronti per partire con la prima domanda rivolta a tutti e tre io comincerei da filippo e allora a filippo ma anche a francesca e claudio chiedo che cosa è cambiato nelle abitudini formative delle persone prima e dopo come dicevo anche in apertura forse l'inizio è diciamo la domanda la prima domanda è un po banale ma da qualche parte dobbiamo pur cominciare poi andremo in profondità e insomma l'importante che le risposte non lo siano dicevo cosa è cambiato nelle abitudini formative delle persone prima e dopo lo scopo della pandemia e quali lezioni abbiamo parlato di lesson learn quali lezioni avete imparato diciamo così da quest'ultimo anno filippo e giacomo non vorrei essere banale ma quasi quasi mi verrebbe da dire che è cambiato tutto cerco di essere un pochino più preciso comincio a spezzettare questo tutto e ovviamente lo contestualizzo e parlo di quello che è successo da noi in barilla dove l'ambiente formativo era precedentemente alla pandemia fondamentalmente un ambiente basato sull'aula quindi molto sulla presenza sincronica come dico come dico io e molto fisica quindi occupava uno spazio concreto nell'agenda delle persone e improvvisamente la pandemia la prima cosa che ha rotto è stato proprio questo meccanismo le aule non erano più possibili e in presenza e il primo cambiamento che abbiamo immediatamente portato verso le persone è stato quello di cambiare il come apprendere quindi uscire dall'aula fisica per entrare nella maggior parte dei casi entro un'aula virtuale sempre in presenza sempre in nella stesso diciamo occupazione dell'agenda delle persone e quindi un appuntamento preciso un momento ben preciso nell'ambito della giornata ma è stato comunque un cambiamento importante le persone non avevano più il contatto fisico e i facilitatori dovevano gestire un'aula improvvisamente eh abitata da icone o nella maggior caso delle delle ipotesi da eh immagini eh a distanza e e l'abbiamo fatto eh un po' in sofferenza ma in qualche modo eh diciamo quello che sembrava impossibile prima della pandemia improvvisamente è diventato fattibile eh questo è stato il primo cambiamento il secondo cambiamento è stato guidato invece dalla eh dalla nostro rapido lancio di una piattaforma digitale per la gestione della formazione eh era già in programma ma siamo stati anche noi costretti ad accelerare questo percorso di implementazione ed improvvisamente ci siamo trovati in un ambiente molto più digitalizzato per la erogazione di contenuti cosa abbiamo fatto abbiamo cominciato a lavorare anche sul cosa quindi non più soltanto la il come le persone stavano apprendendo ma anche che cosa stavano apprendendo quindi non semplicemente semplicemente la trasformazione di contenuti da erogazione in in un ambiente fisico ad un ambiente digitale ma avevamo improvvisamente l'opportunità di portare alle persone una quantità di contenuti molto più elevata con anche una possibilità di profilazione dell'utente eh questo è stato il secondo eh cambiamento per noi da una parte perché ha significato andare alla ricerca di contenuti andare alla ricerca di provider di contenuti quindi cambiare no la nostra eh la nostra interfaccia da fornitori di formazione in aula a fornitori di grandi basi contenuti eh da offrire alle persone e per poi cominciare a profilarle e ad offrirle alle persone che non è che stessero esattamente capendo che cosa stava succedendo no? Eh e quindi eh il percorso inizia ma devo dire che siamo ancora lontani eh perlomeno da noi nel nel eh rendere consapevole eh l'utente finale di come sta cambiando la formazione. Il terzo passo è stato proprio quello guidato da questa pletora di contenuti eh nel eh nel cambiamento relativo al quando eh ovvero eh da un ambiente basato su un'aula eh ben precisa in termini di tempo nell'agenda delle persone improvvisamente questa piattaforma queste piattaforme permettono di eh immergere l'utente in un ambiente eh di formazione e di apprendimento che è continuativo 24 7 come si dice no? 24 ore al giorno per 7 giorni a settimana. Eh anche questo è un cambiamento importante perché le persone improvvisamente si trovano a poter fruire di contenuti eh in momenti diversi della giornata e possibilmente quando questo gli serve. Cioè che questo è un punto che poi Claudio approfondirà eh più avanti nel nell'ambito del eh del del suo intervento. Eh vado un po' oltre, vado verso quello che ci aspetta perché questo questo cambiamento ci ha portato anche a creare delle relazioni con i nostri partner interni eh che sono poi di fatto coloro che posseggono la vera competenza all'interno dell'organizzazione eh per creare insieme a loro degli oggetti formativi quindi dei contenuti che fossero rilevanti per le persone. Ecco queste nuove piattaforme cominciano a darci una infrastruttura che permetta eh la eh la costruzione ma non solo la costruzione ma anche il sostentamento di community, di comunità di pratiche di apprendimento eh e quindi stiamo andando, cominciamo ad andare verso un'organizzazione che apprende. Non siamo più noi il centro, il fulcro di tutto questo ma nel breve eh periodo quello che ci aspettiamo è che siano le persone stesse che diventino finalmente gli artefici stessi della formazione. Eh questo cosa significa? Che noi diventeremo molto più probabilmente fornitori di sistemi, fornitori di processi, procedure, di strumenti e questo probabilmente ci darà maggior tempo per da da dedicare agli interventi di vero sviluppo organizzativo che sono sempre più importanti. Eh un ultimo punto ovviamente questo eh tutto questo di fatto cosa ha fatto? Ha aumentato i trade off che abbiamo a disposizione e lo dico in senso negativo purtroppo perché aumentando il trade off aumentano le possibilità di sbagliare. È vero che aumentano anche le possibilità di fare molto bene però eh risolvere il trade off è sempre più difficile. Ne abbiamo in molte dimensioni. Questo ci comporterà eh un avvicinamento radicale alla strategia dell'azienda. Non riusciremo a risolvere questi trade off se non avremo indicazioni molto chiare da parte del di chi eh gestisce la direzione aziendale in termini proprio di strategia e di obiettivi da raggiungere sia nel breve ma ancor di più nel medio lungo termine e che ci permettono di risolvere questi trade off. Quindi credo che l'ambiente sia molto cambiato eh è un viaggio molto interessante travolti dalla digitalizzazione noi come tutti gli altri. Troppo facile definirlo in qualche modo smart learning ma sicuramente avete sentito alcune delle parole chiave, delle keyword che ricorreranno durante la nostra chiacchierata ad esempio piattaforma, ad esempio eh l'accelerazione verso determinati eh strumenti insomma ma ne parleremo. Peraltro c'è anche un assist che Filippo Ramini ha fatto a Claudio per un altro tema da sviluppare ma insomma eh da Claudio ci arrivo tra poco. prima volevo sentire anche ehm Francesca Leone, Internal Comms and People Engagement Senior Manager di Cerved Group e allora Francesca raccontaci anche quali sono state le vostre eh ehm lesson learn e come che cosa è cambiato nelle vostre abitudini formative. Grazie mille. Allora io mi ritrovo molto in quello che diceva Filippo quindi anche da noi la formazione in Cerved era prevalentemente legata a delle aule quindi con ehm la pandemia abbiamo dovuto ripensare a tutta la la nostra offerta formativa eh rimodulando anche i percorsi quindi se prima un corso poteva essere svolto in aula in otto ore facendolo su Teams, su Zoom ovviamente questo non non poteva più essere possibile. Abbiamo ripensato, rimodulato appunto tutti i nostri contenuti moduli da due, tre ore proprio per garantire anche una una migliore apprendimento anche in linea con la curva della dell'attenzione delle nostre persone. Eh un punto favorevole che non ci saremmo mai aspettati è che eh questa gestione della formazione in modalità da diciamo più tecnologica ci ha permesso di creare dei gruppi delle aule trasversali coinvolgendo anche colleghi di sedi totalmente diverse. Abbiamo quindi ehm garantito anche in un periodo di grande distanza fisica tra le persone abbiamo comunque garantito uno scambio di conoscenze, di informazioni, di background che i nostri colleghi hanno valutato in maniera estremamente positiva. Quindi non escludo che anche quando si ritornerà alla normalità questa tipologia di formazione continuerà ad essere vincente. Sicuramente eh un altro punto che aveva toccato Filippo è quello della formazione delle piattaforme digitali. Noi abbiamo sviluppato una Digital Academy che è nata come un prodotto eh da vendere ai nostri clienti ma che utilizziamo tantissimo internamente. Considerate che si tratta di circa dieci percorsi di formazione con quattrocento corsi di formazione eh fruibili per tutti i nostri dipendenti in qualsiasi momento. Quindi diventa davvero una grande boost per migliorare la crescita, lo sviluppo dei nostri colleghi anche eh mettendo loro sotto i riflettori. Quindi non è più l'azienda che organizza dei corsi di formazione per alcune persone ma sono loro che con il loro eh spirito di imprenditorialità, la loro curiosità, la loro voglia di imparare se vogliono possono spaziare in maniera davvero esponenziale. E in un momento come questo in cui eh l'obsolescenza delle competenze è un tema, è un tema molto serio. Diciamo che dare alle persone la possibilità di eh fruire di contenuti ehm in maniera assolutamente autonoma è il regalo più grande che possiamo fare in eh proprio per aiutarli a sviluppare eh sempre di più eh nuove competenze. Cambia tanto il nostro ruolo eh cambia tanto da il ruolo della della formazione quindi sicuramente eh diventiamo responsabili dei contenuti ma anche della modalità di erogazione. Noi per esempio con la Digital Academy abbiamo anche dei nostri abbiamo acquistato dei contenuti ma tanti li produciamo noi quindi con nostri contenuti, nostri docenti che ehm erogano eh le nostre mettono a disposizione dei nostri clienti e anche del del nostro interno il loro il loro background, la loro il loro know how quindi quello che rende distintiva la nostra professionalità e devo dire che sta andando sta andando molto bene come come esperimento che stiamo facendo soprattutto il fatto di avere eh il di avere una grande leva che è quella della decisione di quando fare i corsi, quando fare formazione, incastrarlo visto che sono anche dei moduli molto molto veloci da venti minuti, riuscire anche a incastrarlo nelle pause. Quindi non sei più vincolato a dei dei momenti predefiniti dalla dall'azienda ma sei più l'attore protagonista del tuo percorso. Stiamo secondo me entrando in quella che poi magari sarà eh il prossimo approfondimento e cioè sulla persona una formazione molto personalizzata eh eh insomma legata magari anche al momento eh tra poco lo approfondiamo magari anche più nel dettaglio però più prima chiudo il giro e vado da Claudio Cattano Digital Training Advisor Speaks che ci racconta insomma anche lui nel suo eh ambito e nella sua azienda insomma che cosa se è cambiato tutto anche per loro per ricollegarmi all'inizio della risposta eh di eh Filippo Romanini. Claudio. Sì diciamo che la l'approccio di Speaks, il punto di vista di Speaks è ovviamente un punto di vista un po' diverso rispetto a quello di eh Francesca e di Filippo ma è evidente che eh ci ritroviamo tantissimo noi eh perché dico che è differente perché noi siamo uno di quei provider che probabilmente citava Filippo ehm noi forniamo piattaforme per l'apprendimento delle lingue straniere sono piattaforme digitali intelligenti cioè basate su intelligenza artificiale e che eh di fatto nascono ben prima del tema della pandemia e per noi è stato forse anche un po' un stress test, un test della verità, vedere se quella che era la nostra visione, quella che era la nostra idea di una eh digitalizzazione, della formazione eh potesse vincere la sfida della pandemia ed effettivamente abbiamo visto che che è stato così, abbiamo visto in termini sia quantitativi ma anche qualitativi eh una crescita importante. Non solo eh abbiamo visto come una un approccio come il nostro cioè di mettere a disposizione delle persone all'interno di una infrastruttura forse era la parola che diceva a non so se Filippo o Francesca eh che è stabilita dall'azienda che viene identificata dall'azienda cioè l'intensità dell'intervento, le modalità eccetera ma all'interno di questo un percorso personalizzato basato su intelligenza artificiale quindi un un riconoscimento di unicità dell'utente eh ci ha permesso proprio di inserirci in questo tipo di fruizione, una fruizione distribuita lungo il corso della giornata e abbiamo visto ad esempio dai dati di accesso alle nostre piattaforme che ehm si è molto diversificato, si è esteso l'orario di accesso alla piattaforma e si è anche diversificato all'interno degli stessi utenti, gli stessi utenti avevano più accessi magari con minori eh momenti ma più eh più distribuiti nel corso della giornata. Un'altra cosa era anche il fatto che abbiamo visto che alcuni strumenti eh che si prestavano molto ad allenare delle competenze che sono servite a eh gestire questo cambiamento hanno avuto un aumento di utilizzo. Faccio un esempio, abbiamo visto eh di recente ehm in questi in questi ultimi mesi sono usciti degli degli studi, vari studi tra cui uno di Forbes, uno di Harvard Business Review sul fatto che ad esempio in quest'anno evidentemente abbiamo usato di più la mail rispetto al passato ahimè perché di fatto c'è qualcuno che già eh era in overload no di di questo utilizzo ma al di là delle battute eh la mail e ovviamente le video presentazioni cioè una chiacchierata come quella che stiamo facendo adesso. Ebbene abbiamo visto che all'interno della piattaforma dove ci sono degli strumenti che allenano ad esempio ci sono dei laboratori di scrittura con correzione individuale eh dei laboratori di video presentazione è un tool che eh di fatto abbiamo inaugurato un anno e mezzo fa poco prima che scoppiasse tutto e ahimè eh si è arrivato quasi profetico cioè questo tipo di eh competenza è sempre stata è stata sempre più necessaria in questo ultimo periodo. Ebbene questi due eh tool li abbiamo visti aumentare nell'utilizzo da parte dei nostri utenti. Quindi si è capito qual era eh il plus, qual era eh diciamo il vantaggio di un tipo di formazione di questo di questo genere dove sono io che mi costruisco un'autonomia un mio percorso, il sistema mi aiuta creando dei contenuti che sono adatti a me ma io accedo quando eh non solo quando posso ma anche quando mi serve e vado a prendere quello strumento, quell'elemento che serve per me in quel momento lì. È quello che un po' aveva teorizzato Josh Bersin qualche anno fa che è un esperto mondiale di digital training nonché collaboratore di Deloitte fondamentalmente ehm in cui lui parlava definiva la formazione del futuro che ormai è qui quella in the flow of work cioè nel flusso di lavoro quindi tra una cosa e l'altra ma non come riempitivo ma perché magari un domani ci sarà eh uno strumento che mi dice guarda fra due ore hai una hai una hai un pitch hai una presentazione con un fornitore bene vuoi ripassare qualcosa? Vuoi che ti aiuti a svilupparlo? Questo sarà un po' quello che eh vedremo e che già abbiamo visto un po' la fine di questi ormai quindici mesi insomma. Mi verrebbe da fare una battuta Claudio parlavi dell'utilizzo delle mail che è diventato molto più eh assiduo insomma molto più continuo beh insomma sostanzialmente non è un'esagerazione dire che eh il numero di mail che ci ritroviamo accumulate alla fine di una vacanza adesso è il numero che ci ritroviamo ogni giorno o magari tipo dopo un weekend insomma per per fotografare ancora di più la situazione col sorriso ovviamente. Allora eh tornando in qualche modo seri lo avete sentito da tutti e tre i nostri ospiti si parla sempre più di personalizzazione dell'offerta formativa una formazione tarata e creata su misura in base alle necessità e agli obiettivi del singolo e allora io ripartirei da Francesca Leon eh in che modo Francesca le aziende quindi in questo caso voi possono oggi accompagnare i lavoratori in un percorso di crescita lavorativa che sia in linea con gli obiettivi personali ma anche e soprattutto aziendali. Allora sicuramente mi piacerebbe iniziare da un po' la nostra i pillar della nostra HR strategy sì che sono più più felici più skillati più produttivi quindi il tema delle skills è proprio qualcosa di in sito dentro di noi. Eh noi facciamo anche con la digital academy come dicevamo prima diamo grandissima disponibilità di contenuti alle persone in modo che possano spaziare ma poi andiamo anche a focalizzarci su alcune famiglie professionali su alcuni ruoli e mi rendo conto che al di là dei corsi estremamente tecnici di di sviluppo per esempio di software piuttosto che di apprendimenti di nuove tecnologie noi ci stiamo focalizzando molto anche su aspetti che prima non avremmo considerato così tanto per esempio la comunicazione. Recentemente abbiamo organizzato per alcuni data scientist un corso di digital storytelling quindi di data storytelling scusate quindi eh abbiamo eh spostato il focus della formazione sulla comunicazione come aiutare i nostri data scientist a rendere semplici gli scenari complessi. In un contesto di continua evoluzione è fondamentale per riuscire a semplificare ehm si parla tanto di questo mondo VUCA quindi che cambia si evolve estremamente velocemente dobbiamo riuscire a focalizzarci su alcuni capisaldi e soprattutto aiutare le persone a sviluppare quelle che possono essere le competenze che li possono aiutare. Per esempio si parla tantissimo di learning agility quindi la capacità di imparare sempre cose contenuti nuove di approcciarsi a eh situazioni diverse. Noi magari non sappiamo quali sono ancora queste situazioni. L'anno che abbiamo appena vissuto ce lo è un esempio concreto. Però quella capacità di adattarsi di vedere anche il positivo in quello che che sta succedendo e riuscire a imparare è sicuramente un un plus come anche eh l'intelligenza emotiva. Quindi riuscire a creare dei dei manager, dei leader che a cascata riescano a far eh sviluppare delle 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 organizzazioni emotivamente intelligenti che ovviamente non si non si limita solamente al concetto di empatia ma dietro l'intelligenza emotiva ci sono competenze estremamente misurabili come la motivazione, la capacità di avere una direzione e di svilupparla anche negli altri. Penso che in un contesto di questo tipo che stiamo vivendo adesso eh sicuramente possa portare un valore. Come anche ehm la l'imprenditorialità delle persone aiutarle a diventare davvero eh artefici del loro del loro percorso di crescita e di sviluppo. Quindi da una parte in questo momento noi stiamo cercando di aprire, di ampliare le loro le opportunità di formazione, di sviluppo che che offriamo ma allo stesso tempo cerchiamo anche di di segmentare quindi di creare per alcune famiglie professionali in determinati momenti della loro carriera anche dei dei percorsi di formazione ad hoc proprio per aiutare eh la nostra la nostra società nell'obiettivo di essere più skillati quindi anche più produttivi e di conseguenza più felici. Filippo vengo vengo da te stessa domanda e il ragionamento di Francesca mi fa pensare anche il fatto che come anche in qualche modo ci ha spiegato eh insomma quando c'è questa proposta formativa così iper personalizzata serve anche una c'è un certo equilibrio cioè serve anche capire no in qualche modo quando quando fermarsi per evitare no che ci sia un un surplus no di di informazioni e di contenuti ma non voglio insomma anticipare troppo anche perché comunque insomma la riflessione credo che sia eh chiara. Filippo? Sì eh credo che Francesca abbia ben benissimo introdotto il tema eh questo è quello che tu eh sottolinei è è uno degli altri trade off di cui parlavo prima eh entriamo improvvisamente anche noi del learning eh nel mondo degli analytics eh sì avevamo anche noi qualche dashboard però devo dire che erano molto molto rudimentali molto primitive rispetto a quello che invece possiamo avere oggi e le nuove piattaforme che citate anche da Claudio prima oggi ci danno una serie di informazioni rilevanti su quello che le persone fanno su come apprendono che cosa apprendono e al contempo noi abbiamo una serie di informazioni su quelle che sono le nostre aspettative rispetto alle persone no quindi quelle che sono dei set di competenze che riteniamo debbano essere utili per le persone per poter performare eh e raggiungere i risultati che ci attendiamo. Si entra così nel mondo del cosiddetto upskill o reskill no dove ad ognuno di noi viene in qualche modo associato un elenco di possibili eh competenze eh e qui purtroppo l'italiano eh stranamente non ci aiuta perché l'italiano tende un po' ad appiattire eh nella parola competenza la invece la dialettica che l'inglese offre con le due parole che ha lo skill e competence no? Eh che hanno effettivamente un significato molto diverso e noi tendiamo purtroppo ad usare la parola la parola competenza sia per quelle che sono delle degli eh diciamo capacità molto eh operazionali rispetto a competenze che sono invece estremamente relazionali che devono essere trattate in maniera molto diversa. Eh però eh diciamo le analytics purtroppo sulle competenze relazionali ci aiutano molto meno che non sulle competenze operazionali che quindi possono essere sicuramente eh tenute maggiormente sotto controllo possono aiutarci in termini di ehm quali sono percorsi formativi come diceva Francesca no? Che debbano essere offerte alle nostre persone in modo tale che vengano garantite i livelli minimi di performance. Eh diciamo che ci sono altri un altro paio di trade off che mi piace mettere sul tavolo. Allora uno è quello della eh del rischio di eh semplificazione eh giustissimo come diceva Francesca siamo in un mondo vuca e iper complesso oramai eh però spesso i sistemi e ci sono ancora ancorati a eh dei riferimenti abbastanza deterministici per cui il job description sulla base dei ruoli e delle aspettative. Eh purtroppo oggi la complessità richiede delle job description un po' meno eh definite. Eh ad ognuno di noi è richiesta un'elasticità intorno ad una job description di base. Eh e questa eh personalizzazione da parte del diciamo dell'attore del ruolo stesso un po' male si sposa con il determinismo degli analytics. Eh quindi sicuramente qui dovremo trovare il nostro eh il nostro grado di flessibilità rispetto a job description molto deterministiche e eh in confronto invece ad una imprevedibilità di ciò che dovremo aspettarci dalle persone che poi vivono negli specifici ruoli. Il secondo punto è il tema del eh della personalizzazione che io vedo eh in un trade off con il controllo eh anche qui la complessità ci dice che in qualche modo dobbiamo di diminuire la quantità di controllo che abbiamo sui sistemi e lasciare sistemi in gradi di libertà che permettono di reagire rapidamente alle mutazioni del sistema all'interno del quale agiamo e gli analytics rischiano di portarci verso non soltanto una iper personalizzazione ma anche verso il mondo dell'iper controllo. Eh per cui improvvisamente sapendo che Filippo apprende certe cose gli offro altre informazioni coerenti con quelle che Filippo ha già ha già ricevuto nascondendogli invece tutta una serie di cose che che non ha visto no? Eh il solito tema del di ciò che ti offre internet quando entri sulla base degli analytics di Google. Eh questa tende un pochino ad appiattire il la il pensiero e quindi anche qui di nuovo fare molta attenzione tra quello che è eh effettivamente la personalizzazione e lo invece lo snaturale, lo snaturare la possibile curiosità delle persone che poi porta verso eh un'innovazione maggiore all'interno dell'organizzazione. E allora sentiamo anche da Claudio Cattaneo se la stessa la stessa riflessione che hanno fatto Filippo e Francesca valgono anche per speaks oppure no non so se ti trovi più a tuo agio nel rispondere per ultimo e quindi magari rielaborando anche un po' quello che dicono gli altri o se invece è più difficile nel senso che magari c'è il rischio di eh ripetersi però ovviamente anche qui te lo chiedo ovviamente col sorriso ma chiudo con te il giro su questa domanda poi andrò su eh magari qualche domanda un po' più specifica relativa a ciascuno di voi. Claudio. Sì ehm sicuramente eh il tema della personalizzazione è un tema che ho citato anche io prima e quindi eh ritorna no? In quello che che noi facciamo. Ehm ci sono anche qui delle tematiche che sono quelle un po' che citava Filippo eh chiamiamole trade off, chiamiamoli rischi, chiamiamoli complessità. Ehm quello che ehm proponiamo come eh come speaks è un un sistema dove di fatto ehm c'è una costina una continua collaborazione e ehm diciamo corresponsabilità no del percorso formativo tra leiciaro comunque eh l'azienda che stabilisce un determinato tipo di intervento sulla 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 persona eh e la persona che all'interno di questo però si crea un suo un suo percorso ehm e qui forse è in questo questo bilanciamento che dobbiamo trovare un po' la soluzione eh che avvicini se vogliamo l'utente alla persona. Quindi creare una eh una tecnologia e un contatto umano che comunque rimane nella formazione perché è evidente soprattutto in ambito linguistico dove si parla di creare abilità o competenze per mettere in contatto le persone eh quindi questo è fondamentale che rimanga questo questo aspetto ma direi che il il segreto sarà quello di creare qualcosa che eh non svilisca la ricchezza, la complessità della persona che va oltre ovviamente a dei tags oltre a delle singole eh attività o delle singole dei singoli analytics. Qui deve essere ovviamente anche il supporto eh da parte dell'azienda. Quello che diciamo è un percorso di personalizzazione deve essere sempre concepito all'interno di una mh diciamo collaborazione o di ehm diciamo creazione di un ecosistema formativo. Parlava prima credo Filippo di un'organizzazione che apprende eh o era Francesca non ricordo eh credo Filippo eh di fatto l'organizzazione che apprende aiuta a creare a mantenere una direzione generale all'interno però eh con all'interno però una uno spazio di libertà creato sul singolo. Ma perché è importante? E perché si riesce a mettere insieme la formazione individuale cioè il percorso del singolo e il percorso dell'azienda perché rende di più perché è più efficace dire all'interno di faccio l'esempio nostro che ovviamente è molto eh cioè quello per quello che conosciamo noi all'interno di un percorso di formazione linguistica eh sapere come apprende eh diciamo lo studente A rispetto allo studente B cosa fa? Cosa gli rende di più? Quali sono i suoi interessi? Aiuta entrambi arrivare all'obiettivo che è quello di imparare una lingua e di imparare a metterla in pratica nei contesti che servono a quella persona. Se io creo una una classe con persone che sono di seniority diverse, generazioni diverse, c'è il tema eh abbiamo detto prima dell'obsolescenza delle competenze ma anche della compresenza di generazioni diverse. Eh mettere una classe con lo stesso tipo di generazioni eh con la stessa funzione, la stessa eh seniority diventa sempre più complesso. Uno strumento invece che permetta all'interno di una sovrastruttura, chiamiamola sovrastruttura sovrastruttura a brutto termine, di una infrastruttura di apprendimento eh eh stabilito insieme con l'HR eh di creare un proprio percorso è un percorso che ehm ottiene lo stesso scopo ma eh diminuendo molto gli sforzi perché io che magari sono dei sales eh ho degli interessi diversi rispetto a chi viene dagli acquisti eh chi viene dagli acquisti ma anche una signority diversa dalla mia, un'esperienza formativa diversa dalla mia eh conosce eh altro della formazione rispetto a me e così via. Quindi è in questo senso che va intesa la personalizzazione e non in senso non in senso evidentemente di un liberi tutte, di un'anarchia generalizzata. Le fonti HR TV Week è la nostra settimana che dedichiamo a un approfondimento importante e a noi caro cioè eh eh il tema dell'HR, delle human resources, delle risorse umane. Oggi in particolare parliamo di una formazione a misura di persona, lo stiamo facendo con Filippo Romanini, Learning and Development Director Barilla, Francesca Leoni, Internal Comps and People Engagement Senior Manager Chairman Group e Claudio Cattaneo che ha appena concluso il suo eh ragionamento Digital Training Advisor Speaks. Allora eh vorrei tornare da adesso da Filippo che come detto è Learning and Development Director quindi eh responsabile dell'apprendimento e dello sviluppo quindi si guarda al futuro in qualche modo e allora ti chiedo Filippo siamo in un contesto di eh graduale rientro dell'emergenza. Speriamo che questo avvenga il meno graduale possibile cioè il più velocemente possibile ma da questo punto di vista dato che è evidente siamo in questa situazione come vi figurate sarà organizzata la formazione? Secondo me nelle vostre domande più o meno si è capito lo avete e lo avete anche spiegato abbastanza bene ma andiamo più ancora di più nello specifico ehm ehm insomma su come sarà la formazione nel contesto di graduale eh eh rientro dell'emergenza. Filippo? Beh eh io prima di entrare nel come eh qui vorrei fare un punto sul cosa eh perché la prima cosa che dovremmo fare è proprio aiutare le persone al rientro. Eh abbiamo scoperto credo per la prima volta eh tantissime differenze tra le persone. Eh le persone hanno reagito in maniera estremamente individuale a questa pandemia e eh e nessuno di noi ha avuto il coraggio di generalizzare. Eh credo che questa cosa dovrà essere fatta anche al rientro delle persone e quindi mantenere il rispetto della della diversità delle persone eh in quando torneranno in contesti che saranno diversi da prima eh noi abbiamo fatto partire un progetto eh per comprendere quale sarà il nuovo assetto di non solo di uffici ma anche di livelli di smart working e quindi livelli di collaborazione all'interno dell'organizzazione. Ecco dovremo capire poi come questo si interseca con le necessità delle singole persone. Abbiamo parlato di generazioni abbiamo parlato ma dobbiamo parlare veramente anche di genere eh di disabilità di tanti altri livelli di diversità e non soltanto quella diciamo così più visibile ma anche poi a livello di singoli individui eh e dovremo aiutare le persone a ridefinire modelli di leadership eh individuali a definire eh modelli di collaborazione eh individuali ma ovviamente poi socializzabili no? Che siano efficaci in una in un contesto che sia comune e questo credo che sia per noi il il principale impegno eh in termini di eh supporto al rientro. E per il come invece è chiaro che qui eh dovremo mettere a terra tutti i trade off di cui abbiamo parlato fino adesso no? no? Quindi eh quanta aula perché le persone in questo momento hanno 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 esprimono un bisogno forte di ritrovarsi fisicamente con le altre persone no? Quindi eh sarebbe errato oggi proseguire un percorso di eh estrema digitalizzazione senza ricreare quegli spazi eh sociali all'interno delle quali le persone oggi possono ritrovare una un rilancio del proprio entusiasmo, del proprio engagement, della motivazione non soltanto nei confronti del 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 proprio ruolo ma anche nei confronti dell'azienda per la quale lavoriamo eh uno dei dei rischi della della digitalizzazione, della remotizzazione del lavoro è proprio quello di creare un più che un'azienda un insieme di consulenti. Allora come come invece ricreiamo una una comunità di persone che eh si sente unita da valori comuni, da obiettivi comuni eh all'interno della stessa organizzazione e questo quindi non sarà non sarà semplice da risolvere quanto torneremo verso il 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 fisico rispetto al eh al digitale. E l'altro per noi è è è un tema di far conoscere alle persone i passi che abbiamo intrapreso nel frattempo perché credo che noi come le funzioni di learning and development siamo stati travolti come protagonisti diciamo di questa nuova spinta verso l'apprendimento digitale ma non so quanto le persone abbiano effettivamente compreso che cosa sia succedendo. Credo che sarà bene sarà sarà bene raccontarglielo eh portarli a bordo in questo percorso eh ogni tanto sento perplessità da parte delle persone eh dove sono le aule dove trovo i materiali ma ma come faccio? Ah ecco credo che questo è stato qualcosa che noi abbiamo assolutamente lasciato all'individuo eh e e credo che dobbiamo un po' recuperarlo no? Quindi tornare dalle persone e spiegargli quello che stiamo facendo e come sta mutando anche il 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 loro modello di apprendimento. Quindi questo credo che sono i due punti fondamentali che ci aspettano eh al momento del rientro. Oh sulla digitalizzazione mi interessa avere l'opinione di Claudio dato che è un tema che Filippo ha messo sul tavolo eh per cui più o meno la domanda è la stessa eh Claudio e cioè il eh come sarà organizzata la formazione nel rientro dell'emergenza però aggiungiamo anche come la spinta data dal digitale sia trend destinato a continuare prima in eh prima di iniziare la nostra eh la nostra trasmissione insomma abbiamo parlato anche di in qualche modo abbiamo spaziato su più argomenti tra cui anche il cinema io sento molti che dicono andremo a finire come nel film Hair in cui la gente cammina parla da sola nel senso che parla con il proprio eh la propria cuffia insomma in bluetooth e magari intreccia anche relazioni con qualche sistema operativo ovviamente qui si si tende un po' a esagerare ma per farvi capire di cosa stiamo parlando anzi poi giri in centro e se vedi due persone che si abbracciano quasi attirano l'attenzione perché è una cosa a cui non si è neanche più abituati eh a a vedere insomma così nel eh nella propria routine quindi tornando alla domanda insomma questa spinta del digitale è trend che continuerà inesorabile riusciremo a privilegiare nuovamente il contatto umano Claudio? Ma sicuramente il contatto umano eh c'è già eh ovviamente ha delle forme diverse e sicuramente si tornerà ad abbracciarsi e io spero spero tanto insomma che eh a volte anche un momento di formazione possa eh insegnarti a a ritornare a quel tipo di di approccio no ma al di là di 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 diciamo uno slancio così più filosofico eh sicuramente ehm è una è una tendenza che si va consolidando. Noi parliamo quotidianamente con gli HR, con eh learning and development managers e vediamo che eh i vantaggi eh sono molti vedono anche le complessità sicuramente sicuramente non ci sarà un ritorno al cento per cento non si rimarrà al cento per cento digitale ehm questo no quello che io credo è che ci sarà eh e mi ricollego un po' a quello che diceva Filippo ehm ci si ci sarà una una sorta di accompagnamento a una maggiore comprensione di questo tipo di strumenti per chi eh se l'è ritrovati un po' in mano così eh senza nessun tipo di introduzione. Noi mastichiamo eh da tempo da sempre questo tipo di di discorsi ma molto spesso gli utenti eh no non sono in questa stessa condizione. Quindi da un lato ci sarà secondo me uno sviluppo ancora quantitativo quindi di estensione di questo tipo di interventi ma io spero mi auspico eh e anche noi stessi in prima persona cerchiamo continuamente con la comunicazione che facciamo ai nostri utenti con dei percorsi di engagement eh che eh cerchiamo di eh con cui cerchiamo di supportare le aziende nell'introduzione, nell'attivazione, nella eh diciamo presa in carico di questo tipo di strumenti. Eh dicevo, tramite anche questo tipo di supporto io spero che si arrivi a una maggiore consapevolezza di questi strumenti, di cosa possono dare, di come sfruttarli al meglio e di come anche evitare eh esagerazioni o false partenze o vicoli ciechi. Quindi da questo punto di vista io credo che appunto ci sarà questo doppio binario. Quantità sì, si manterrà o meno io lo spero visto anche il lavoro che faccio ma eh spero e sono sicuro e sono convinto che ci sarà anche una maggiore eh una accettazione ma nel senso di eh prendere in carico di comprensione di quello che eh possono dare a questo tipo di strumento. Allora la la pausa diciamo così i secondi di silenzio sono dovuto al fatto che stavo ascoltando la la risposta di Claudio e mi è venuto in mente che potremmo siamo quasi alla conclusione della nostra chiacchierata. Ho un'ultima domanda a Francesca però facciamo così un piccolo giochino se vogliamo. Allora Francesca la domanda che sto per farti presuppone come risposta ulteriori domande. Eh adesso poi capirete a cosa sto facendo, a cosa sto alludendo. Ehm facciamo così queste domande. Noi ci impegniamo ehm a dare una risposta alle domande che verranno fuori da Francesca per il prossimo appuntamento che faremo perché comunque l'HR TV Week è solo ehm questa è una è una delle tante edizioni che organizzeremo insomma ne faremo altre per cui ora le domande che tireremo fuori con Francesca come risposta alla domanda che sto per farle eh avranno una risposta insieme anche a eh Filippo e Claudio nella prossima HR TV Week. Che dite? La accendiamo come 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 possibilità? Ok 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 allora Francesca ti chiedo quali domande sarà necessario che chi si occupa di eh formazione si faccia oggi per restare competitivi e attrattivi anche nel futuro? Ehm grazie per la domanda. Ci sta ci sta qui. Allora ricollegandomi un po' a quello che dicevano Claudio e Filippo penso che sia una domanda possa essere il tempo cioè quindi come rientrare quanto che tipo di formazione fare in aula che tipo di formazione fare da da remoto. Le persone hanno bisogno di di serendipità quindi di trovare quella quel confronto con con i colleghi che magari può essere dato anche da un corso di formazione però magari può essere rivisto quindi anziché fare otto ore di corso o di formazione si può fare in autoapprendimento quindi online con le piattaforme di cui parlavamo prima e utilizzare il momento dell'aula come momento di scambio di confronto di condivisione di best practice quindi per accendere quelle quelle lampadine e creare quelle sinergie che sono fondamentali. Penso anche a un sistema generazionale quindi come far convivere le diverse generazioni e trovare quelle modalità di apprendimento che possano essere importanti e facilmente fruibili dalle diverse generazioni che abbiamo ad oggi nelle nostre aziende. Io ho parlato tantissimo di millennials però ormai abbiamo ragazzi del 2000 che si affacciano al mondo al mondo delle aziende quindi è fondamentale riuscire a trovare quelle quelle modalità che possano essere importanti e che possano portare un valore ad entrambi quindi sicuramente le piattaforme digitali sono magari molto ben utilizzate da ragazzi più giovani magari persone un po' più senior anche anagraficamente possono fare più fatica quindi potrebbero prediligere altre modalità di formazione questa secondo me è anche la sfida per chi si occupa come noi di formazione nelle organizzazioni quindi riuscire a trovare un buon bilanciamento e anche il tema delle quali competenze formare cioè su quali competenze formare si parla tanto che si dice che i nostri figli faranno probabilmente dei lavori che ad oggi non esistono sembra lontanissimo ma già adesso che stiamo vivendo un po' questa questa situazione quindi andare a capire noi abbiamo bisogno di competenze diverse che ancora magari non sono non ci sono ancora le università che possono formare su quelle competenze quindi abbiamo il gap di formazione da questo punto di vista perché abbiamo l'esigenza ma non abbiamo le competenze parlavo qualche qualche giorno fa con un mio collega che è data scientist e lui mi diceva per me avere una persona che appena uscita dall'università magari ha studiato ingegneria è l'infa vitale perché ha appreso delle delle nuove tecnologie delle nuove competenze dei nuovi modi di lavorare che per noi portano un valore aggiunto e la persona che esce che uscirà magari tra otto mesi dall'università ne avrà presa ancora di nuove quindi c'è questa rincorsa continua al a lavorare a sviluppare della nuova formazione su competenze che ci serviranno magari ad oggi non ci rendiamo conto ma saranno fondamentali quindi questa velocità di reazione è fondamentale queste dunque le sfide alcune delle sfide che insomma dovremo in qualche modo affrontare nel tema sul tema della della formazione sfide su cui magari faremo nuovi ragionamenti appunto nelle prossime HR TV week anche con gli ospiti che abbiamo avuto oggi e che saluto e ringrazio e allora Francesca Leone con internal comms and people engagement senior manager Cervet group grazie Francesca grazie a voi Filippo Romanini learning and development director Barilla Filippo grazie per la tua disponibilità e buon lavoro ovviamente grazie grazie a voi Giacomo e un saluto e un ringraziamento anche a Claudio Cattaneo digital training advisor speaks Claudio grazie per i tuoi approfondimenti e alla prossima grazie mille a tutti e buona giornata a tutti buon lavoro bene insomma speriamo di avervi tenuto compagnia ovviamente offrendovi spunti di riflessione interessanti utili noi vi diamo appuntamento alla prossima edizione alla prossima puntata insomma della nostra HR TV week vi mi raccomando insomma rimanete in nostra compagnia con la programmazione delle fonti tv grazie a tutti 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 grazie a tutti